Abbiamo visto che nonostante sia abbassato il computo totale, non è stata abbassata la tassa verso i nostri associati, abbiamo deciso di dare una spulciata e controllare tutto per benino. Abbiamo visto che c'erano delle incongruenze. Le tasse non sono diminuite, la pressione fiscale ha fatto chiudere molte imprese e quindi noi tentiamo la via del ricorso al TAR almeno per bloccare la tariffa sull'asporto rifiuti. Almeno quella. Questa, in estrema sintesi, la posizione di Confcommercio che in giornata ha voluto spiegare i motivi dell'istanza presentata al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera del Consiglio di Bassano e contro il decreto del Ministero dell'Ambiente. Sul paradosso di un ricorso presentato proprio quando i costi per le attività commerciali, stando a quanto afferma l'amministrazione, sono diminuiti il lunar di replica, abbiamo tentato una mediazione ma il Comune non ci ha ascoltati. Sono diminuiti per loro i costi fissi e sono rimasti gli stessi per noi i costi variabili. E poi l'accusa precisa. Manca dialogo. Quando EDRA dice che il computo totale sia abbassato è vero. Per quanto riguarda le tariffe dei nostri operatori, no. Per quanto riguarda le tempistiche, come posso dire, noi abbiamo tentato più volte di avere l'opportunità, comunicando insieme con l'assessore di competenza, l'opportunità di ricalibrare la tariffa, ma fino ad ora non è mai stata presa in considerazione seduti sul tavolo. Il vice sindaco Campagnolo pochi giorni fa ci ha detto esattamente il contrario. Sul ricorso presentato solo contro la delibera del Comune di Bassano e non contro le delibere dei comuni vicini che hanno seguito la stessa normativa nazionale, questa è la risposta di Lunardi. Noi ci siamo mossi con tutti i comuni e abbiamo avuto modo di capire che con parecchi contatti con i sindaci di tenere in equilibrio la situazione. Ripeto, è sempre a discrezione dell'amministrazione comunale poi applicare le tariffe, per cui non siamo riusciti a Bassano portare per i risultati. Anche in questo caso la risposta è esattamente il contrario di quello che sostiene l'amministrazione. Andremo a fondo di questa vicenda, vogliamo capire chi sta raccontando la verità.